Le verifiche effettuate all'interno dell'edificio che ospita il Liceo Cotugno dell'Aquila confermano, in relazione alla resistenza ai carichi verticali e alle prove sui materiali, la sussistenza delle stesse condizioni riscontrate a seguito degli interventi post-sisma del 2009. Le prove sui carichi non evidenziano problemi alla struttura per quanto riguarda i carichi di esercizio. Domani, pertanto, gli alunni dovrebbero tornare in classe. È quanto emerso nel corso della riunione della Commissione Interistituzionale, che ha proceduto alla disamina dei primi dati, relative alle prove di carico e a quelle sui materiali effettuati nella sede del Cotugno, l'Istituto Superiore del Capoluogo, chiuso in seguito alla scossa del 18 gennaio scorso. I dati sono stati illustrati dalla ditta incaricata dall'ente. Una decisione sulla riapertura della struttura, frequentata da circa 1.200 studenti, oppure sul trasferimento, sarà probabilmente presa in giornata quando il Presidente della provincia, Antonio De Crescentis, ha fissato una nuova riunione della Commissione. De Crescentis fa anche presente che i risultati delle prove saranno sottoposti ai tecnici del Consorzio Universitario Re-Louis, ai fini di un definitivo approfondimento sulla verifica dell'analisi statica e alla protezione civile regionale per stabilire se permangono le condizioni di agibilità dell'edificio. La notizia arriva dopo la protesta dei giorni scorsi di studenti e genitori che chiedono sicurezza e garanzie per i ragazzi. Malumori che si sono estesi anche ai genitori degli alunni dell'Istituto Bafile che accorpa il liceo scientifico e l'artistico. Col supporto di alcuni avvocati e sulla scorta di alcune osservazioni fatte da un gruppo di tecnici ed ingegneri, le famiglie del Bafile hanno fatto partire una diffida indirizzata al Presidente della Provincia dell'Aquila, al Sindaco, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, al Dirigente Scolastico e al Prefetto per chiedere di effettuare nuove verifiche e studi più approfonditi sull'immobile. Dal canto loro, le presidi di quattro istituti, il Cotugno, il Bafile, il Colecchi da Vinci e il Daosta, con una lettera congiunta, hanno elencato una serie di interventi urgenti da assumere per ricondurre la psicosi collettiva, scrivono, nei termini di una comprensibile e motivata paura generalizzata cui dover dare risposte. Una tensostruttura in ogni scuola per ospitare, in caso di emergenza, gli studenti, soprattutto quelli pendolari. Postazioni satellitari per garantire le comunicazioni con l'esterno, presenza permanente di personale appartenente alla protezione civile e vigili del fuoco, prototoccorso Croce Rossa, cui affidare il compito di coordinare con strategie efficaci e collaudate i piani di evacuazione degli stabili, richieste a cui la politica, oltre che i tecnici, è chiamata a dare risposte. Avere fiducia nel futuro e trasmetterla anche all'esterno delle mura cittadine, è l'appello lanciato ai media del giornalista e storico Paolo Mieli, intervenuto all'Aquila in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Accademia delle Belle Arti. Un incontro con studenti e autorità per parlare di intellettuali e regime di passato e falsificazioni della storia. Un rischio, quello delle mistificazioni sulle vicende aquilane, che per l'editorialista del Corriere della Sera non esiste, considerata l'alta attenzione che dal 2009, anche se con ritmi alternati, si è sempre concentrata sull'Aquila ed il posto terremoto. Credo che l'informazione all'Aquila nel suo complesso, come diceva la vostra collega, un complesso fatto di carta stampata, televisione, radio e web, è un'informazione davvero molto ricca e documentata e quindi questa volta non c'è un'informazione uniforme. L'unica cosa che io aggiungerei è una nota di fiducia nel futuro, cioè di non fare una cosa solo lamentosa, perché penso che il resto d'Italia, l'Aquila sapete di che cosa si parla, ma il resto d'Italia, se derubrica tutto, ha il pianto dell'Aquila, volta pagina, metaforicamente parlando, non sta più neanche a sentire. Sui numeri dell'Accademia invece parola il direttore Marco Brandizzi, soddisfatto per l'aumento delle immatricolazioni e la prossima attivazione di nuovi corsi di studi. Gli iscritti, devo dire, noi abbiamo avuto il raddoppio delle nuove immatricolazioni al primo anno, che sono passate praticamente da 90 a 160 e indubbiamente per noi è un risultato ottimo, quindi abbiamo un numero di iscritti intorno alle 400 unità. Si prevederà probabilmente dopo l'ottimo risultato del nuovo corso di fotografia, un triennio che vede 40 iscritti, 40 nuovi iscritti, un nuovo corso, un nuovo triennio dedicato proprio all'arte terapia. sarà un triennio collegato con dei centri di recupero specializzati nella regione e oltre ovviamente a tutta una serie di altre iniziative che vorremmo fare.